salve e bentornati allora di sistemi per realizzare dei jig per utilizzare le spine devo dire che è piena la rete e praticamente è come al solito un copia copia però praticamente tutti quelli o almeno la stragrande maggioranza sono fatti per realizzare gli incastri ad angolo allora supponiamo che invece noi vogliamo realizzare una libreria una scaffalatura dei ripiani insomma montare le tavole su di una tavola lunga non realizzare una cosa d'angolo ad esempio cose come queste vi faccio vedere alcuni esempi di lavori che ho realizzato utilizzando sempre questo semplicissimo sistema allora questo è un tavolo un po particolare è un tavolo per diciamo da gioco per bambini perché a tutti i ripiani sopra che sono delle tavole che si staccano e funziona praticamente tipo domino però la questione è che questo se non è realizzato in maniera più che precisa non può funzionare perché chiaramente deve essere tutto incastro allora questo è un esempio realizzato proprio esattamente con questo sistema qui per cui ora questa è una cosa un po particolare però adesso ne vediamo altre tenete presente però che ripeto tutte le cose che andremo a vedere sono state realizzate esattamente con il sistema che andrò a descrivervi vedete dall'alto praticamente tutti i ripiani che si muovono ma ripeto questo funziona solo se è realizzato proprio in maniera più che precisa altrimenti le tavole poi non non si muovono all'interno questa invece ad esempio è una semplicissima libreria fatta sempre con lo stesso sistema questa ancora la libreria ripeto fatta sempre con questo stesso sistema che vi andrò a descrivere che è semplicissimo e facile da realizzare la libreria in questo caso è semplice però ad esempio in quest'altro esempio andiamo a vedere proprio un armadio completo fatto esattamente con così con questo meccanismo andiamo a vederlo ecco allora vi faccio vedere quello che mi sono creato io per effettuare queste operazioni in maniera semplice veloce e precisa allora il jig praticamente è questo sono questi tre pezzi di legno quindi due tavolette con un listello in mezzo di faggio sul quale vengono fatti i fori in linea distanziati di quanto vogliamo noi ne possiamo mettere quanti ne vogliamo in modo tale da poter realizzare i fori su tutte e due le tavole che vengono montate allora in pratica supponiamo che io devo realizzare una scaffalatura da 60 centimetri di larghezza e poi quindi andare a fare tutti i vari ripiani che faccio io mi preparo una un jig fatto in questa maniera dopodiché utilizzo il jig direttamente per segnare le tavole in questa maniera io so che le tavole che io vado a tagliare sono tutte perfettamente identiche quindi direttamente con il jig le segno ora io qui vado ad utilizzare due tavole corte ma supponiamo che in pratica una sia un ripiano quindi magari largo anche 20 centimetri ma l'altra si ha anche una tavola lunga 2 metri che è la sponda di una libreria ok io prendo e segno le due tavole me le vado a tagliare chiaramente se avessi le tavole già tagliate a misura farei al contrario mi preparerei il jig sulla misura della tavola questo è abbastanza ovvio no quindi mi taglio le tavole con le misure che mi sono impostato ma ripeto è faccio l'esempio con queste due tavole corte ma voi immaginate che una delle due sia lunga anche due metri poi vedremo in pratica la conformazione del jig che cosa ci consente di fare allora ora io ho le due tavolette se notate il jig a il listello con le guide per fare i fori che è decentrato cioè a da un lato una parte lunga e mentre sotto ha la parte corta questo perché perché in pratica il trucchetto sta tutto lì e cioè è posizionato in modo tale da avere un riferimento lungo per riportare l'allineamento sulla tavola non front per i buchi non frontali e corto invece per la tavola su cui andremo a fare i fori frontali ma andiamo a vedere come funziona ma ripeto è semplicissimo allora io mi posiziono vedete sul lato diciamo corto il jig sul frontale della tavola in più poi tenete presente questo jig è stato pensato cioè le misure sono state fatte per riportare i fori al centro di una tavola di spessore 18 mm mentre invece questa è più spessa ma la cosa vedete che non cambia assolutamente quindi il jig mi dà sia lo squadro in un senso che lo squadro nell'altro e io mi vado a fare i fori sulla testa supponiamo che questo sia il ripiano ok quindi vado a fare i fori sulle teste dei ripiani che devo montare sulla tavola di supporto verticale il jig mi dà gli squadri quindi in due secondi lo posiziono e lo stacco vedete è veramente di una semplicità imbarazzante su questi fori io vado ad inserire le mie spine come vi dicevo vedete che i fori non sono al centro della tavola perché il jig è pensato per tavole più più piccole ok mentre qui avevo a disposizione questa ed io ho utilizzato questa ma la cosa non cambia assolutamente ora supponiamo che invece questa sia la mia tavola lunga quella dove io devo andare a mettere tutti quanti i ripiani allora che faccio giro il jig al contrario che praticamente vedete mi dà lo squadro sulla tavola i riferimenti per i fori e lo posso far scorrere su tutte le eventuali linee degli eventuali ripiani che io devo montare ok questo è il risultato finale chiaramente ripeto ho utilizzato delle tavole di recupero per cui non badate ai dettagli è solo per farvi vedere che la cosa funziona perfettamente vedete sono venuti entrambi perfettamente in linea la tavola è a squadro e io con questo sistema posso montarne quante vuole a quanta ne voglio allora ripeto il trucchetto è semplicemente nella guida con queste due pezzi laterali di legno con i ripiani sfalsati per realizzare le guide basta comprare un tubo di alluminio da pochi centesimi in un qualsiasi brigo il listello consiglio di utilizzare quello di faggio perché tiene meglio l'incastro con con l'alluminio spero di esservi stato utile con questo vi saluto e vi rimando alla prossima ciao